Buongiorno mondo, io sono Catarina e benvenuti sul mio canale! Benvenuti! Oddio casca tutto! Come anticipatovi dal titolo di questo video, oggi andiamo a fare la reaction di video tristi. Quindi sarà un prova a non piangere. Li abbiamo fatti tutti, prova a non ridere, prova a non rimanere soddisfatto, prova a non spaventarti, tutto. Ora manca il prova a non piangere, anche prova a non arrabbiarti, magari la prossima volta. Oggi facciamo il prova a non piangere e mi hanno mandato dei video che in teoria sono proprio tipo... Ho messo in spesa il cuoricino, quindi sono veramente curiosa. Poi io non piango molto spesso, quindi secondo me non piangerò e vincerò, ma sicuramente mi commuoverò. Si dice così? Non lo so, vabbè. E niente, sono curiosa. Ciancia alle bande, vanno le ciance e possiamo iniziare con il video. Cuffie alla mano, sbrogliamole. La tecnica di fare veloce secondo me può funzionare, così, perché non si capisce niente. Quindi se io faccio in modo che anche io non capisca niente di quello che sto facendo, secondo me funziona. Ho detto o non l'ho detto che funziona? L'importante è giocare con le stesse carte delle cuffie. Se loro vogliono che io non capisca niente, anche io farò in modo che loro non capiscano quello che io sto facendo. E voi non capite cosa io sto dicendo. Iniziamo! Un riccio. Un riccio. Amore, che pata... Oh! No! Lo disprezzano perché c'ha gli aghi. Ciao! No, si allontanano! No! No! Non vogliono sedersi con lui! Che cattivi! No! E nemmeno... Vabbè, se gioca, poi... No! Lui non lo vuole spingere. Ecco, vedi? No, 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 no. Si è seduto! Oh! La punta. Ma non è colpa sua! Poverino! Gli ha fatto male. Poi lei era quella che l'aveva salutato, che era carina con lui. No! Passa il tempo, arriva Natale! E lui rimane solo. Poverino, no! Fate qualcosa anche per lui! Oh, un regalo! Finisce bene questa storia? Ah, ho capito. Amore! Ma vedete? Ora l'abbraccione dai... Ah! Oh! Che carine! Alla fine gli hanno dato tutti un bel abbraccione! Però ci hanno messo un bel po'. Prima autunno, poi inverno. Tra un po' arrivava di nuovo l'inverno dell'anno dopo e non facevano niente e lo escludevano e basta. Poverino! Però hanno trovato lo stratagemma per abbracciarlo e volerli bene. Ok, abbiamo un cagnolino che va a pescare con il suo padrone. Si chiama Joy. I bau bau. Amore, com'è carino! I pesci... le lipellule! Le lipellule! Ah, come si diverte! È arrivato un uccello! Ehi, ciao amico! Cosa fai? No! No, i vermi no! Servono per pescare... No, ma ti voleva aiutare! Ti stanno rubando i vermi! No, poverino! Ancora! No! 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 Fermo! No, amore! Abbaia, dai, fa niente! Lo avvisi! No, non sgridarlo! Lui vuole solo aiutarti! Ti sta proteggendo dall'uccello cattivo! Ancora! Lotta! Bravo! Devi lottare! Ce lo vuoi fare? Oh! Se ne è accorto! Se ne è accorto! No, dai, poverino! Così no, però... Ce l'ha malmenato! Vola via! No, i raperi piccoli! Non vogliono il pesce! Vogliono il verme! No, poverino! Dategli tutti i vermi del mondo! Daglieli! Poverino! Li rubava per i bimbi! Bravo, amore! Dai, prendili! Oh, e adesso? Ah! Quanta tenerezza! Oh, non essere triste! Hai fatto del bene! Ora sono felici! Bravo! Oh, mio Dio! Oh! Li ha portato in cambio i pesci! Oh, mio Dio! Che carini! Bravo, sì! Amore! Bellissimo! Questo ci insegna che se facciamo del bene otteniamo del bene! Che carini! Ma poi non mettetemi un cagnolino che io ho troppo... Ora voglio abbracciare il mio cane! Vado a prendere il mio cane e gli do un bacino! Mio Dio! Che bello! Ora sono contenti i piccolini, l'uccello grande e il cane con tutti i pesciolini e anche il padrone! Oh, mi sciargo! Non so se il mio cuore legge tutta questa tenerezza! Andiamo! Vediamo questo! Ci troviamo in una scuola canina universitaria quindi un'università per cani per i non vedenti Ok Ehi, calma! Corri anche tu! Corri, corri! Ok, sì per i non vedenti sono i cani che aiutano i non vedenti a camminare e non sbattere ovunque qui ci sono tutti i cani che sono stati diplomati e lui che sogna di diventare grande come loro Amore! Oh! Sei grande abbastanza? Oh no! Sei piccolo! Oh oh! Dai, fallo passare! Amore! Dai, fallo passare! Yuh! Amore! Pip! Ok, abbiamo un pip Prima lezione Lui non arriva al banco Prima pratica Dai! Oh no! Non arriva al rosso No! Poverino! Oh no! Ma è un disastro! Amore! Un cucciolo ancora! Povero! Povero! Poverino no! No amore! Cos'è? Ah, visto che quello lì era piccolino ma è diventato il più bravo E quindi E quindi ha un incentivo per farcela Crede in lui Bravo! Amore! Dai! Oh! Bravo! Amore! Vedi? Con un po' di forza di volontà si riesce sempre Ok, il giorno dell'esame Ovviamente inizia lui Ti prego non fare un disastro Dai! Sei bravo? Credi in te Tu ce la puoi fare Forza! Va tutto bene? Mamma! No amore! Poverino! No! No! L'hanno cacciato! Ma che cattivi! Fateli riprovare! No amore! Mi dispiace! No amore! Il mio cuore non regge! Povero! E vedi tutti gli altri che hanno passato l'esame vero? Sì! No non piangere! Oh no! Cos'è? Ah! Ha bisogno di te! Corri! E se tu sei piccolino ci passi! Aiuti! Bravo! Sì! Bravo Pagnolone ce la fai! Tu sei bravissimo! Bravo amore! Vedi? Non fa niente se non sei bravi a scuola l'importante è essere bravi nella vita e lui ce l'ha fatta! Bravo! Amore! Oh mio Dio che tenerea! Gli dà il mantello quello dell'eroe della statua! Amore ce l'hai fatta! Bravo! Bravo! Oddio! Poi un altro cane io con i cani non ce la faccio il mio cuore si scioglie meno male tutto è bene quel che finisce bene poverino amore l'ho vista brutta eh quando l'hanno cacciato e ha visto che ha fatto tutti quei disastri ho temuto per lui ma ce l'ha fatta quindi questo ci insegna che nella vita tutti possono fare tutto basta che ci si crede ho fatto un danno anche io vedi sono un danno ma ci credo che sono capace a fare le cose anche se sono un danno io come Pip si chiama Pip boh non lo so comunque questo è un grande questi video ci hanno insegnato tante cose sono commossa il mio cuore oggi è più tenero del solito oggi sarà un giorno felice bello perché oggi è il giorno in cui credere in se stessi e nella bontà dell'animo e delle persone e di tutto quanto questo video ci ha insegnato tutti i valori della vita bene il video finisce qua io spero che vi sia piaciuto che non abbiate pianto troppo perché io ce l'ho fatta mi sono trattenuta ho vinto mi sono commossa ho sofferto ma non ho pianto quindi ho vinto e sono sicura che anche voi abbiate vinto perché noi vinciamo sempre mi è piaciuto un sacco fare questo video bellissimo i cortometraggi tipo pixar queste cose qua sono tipo la vita bellissimi hanno tutti dietro un senso significativo cioè un significato importante quindi sono contenta mi è piaciuto questo video quindi spero che sia piaciuto anche a voi se è così lasciate un mi piace se non è così lasciatelo lo stesso perché tanto non vi costa niente e rende felice beh mi raccomando iscrivetevi al canale perché se non vi iscrivete quest'anno nelle vacanze di Natale non riceverete nessun regalo l'ho detto con cosa potete commentare oggi con 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 candela sì perché ho visto che c'è qui la mia candelina e quindi commentate con candela io vi mando tanti 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 bacioni e ci vediamo in un prossimo video ok baci bacioni 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 vi voglio bene tutti mi raccomando credete sempre in voi stessi ciao